Ben ritrovati, facciamo un bel punto sul calcio mercato ad una settimana esatta dalla chiusura della sessione invernale. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per tutte le novità sul mercato e non solo, anche sugli allenamenti del Milan, sulle partite, commenti, considerazioni e tutto ciò che riguarda la sfera del mondo rosso-nero. Allora, in questo video parliamo dell'attacco perché ci sono delle valutazioni da fare ma anche della situazione relativa a Frenchesi. Partirei dall'attacco perché sono arrivate anche le parole del direttore generale della Stella Rossa che ha praticamente ammesso la cessione di Marco Lazetic al Milan, ha detto che tra i due club è tutto già fatto, tutto già concordato. Resta solamente da definire il contratto del giocatore con il Milan e nelle prossime ore infatti i suoi agenti saranno in sede, lui sbarcherà a Milano e il Milan avrà quindi un altro attaccante in rosa. Pietro Pellegri va verso la cessione al Torino in prestito da giocatore del Monaco, quindi interromperà il rapporto con il Milan. Il Milan al suo posto ha preso l'Azetic, classe 2004, 18enne, forte fisicamente, possente, 1,92 m, crescerà a Milanello con Ibra e Giroud, quindi è un rinforzo per la prima squadra. Rispondo così a tutti i tifosi che molto spesso mi chiedono ma è un giocatore per la primavera o per la prima squadra? No, si aggregherà e lavorerà con Mr. Stefano Pioli. L'Azetic nelle prossime ore sbarca a Milano ma c'è da fare una riflessione sull'attacco del Milan in generale perché Zlatan Ibrahimovic purtroppo è un giocatore che sta avendo un po' troppo spesso intoppi di natura fisica ma è normale, avendo 40 anni a ottobre addirittura ne compie 41, giocatore che anche contro la Juventus ha dovuto alzare bandiera bianca e uscire dal campo al 28esimo del primo tempo per un problema al tendine d'Achille. Questa mattina vi abbiamo dato la notizia che non ci saranno esami strumentali al tendine per Ibra perché non sembra un qualcosa di grave però verrà valutato giorno dopo giorno, mercoledì c'è la ripresa dei lavori a Milanello e lì inizieranno a valutare questo problema al tendine di Ibra e vedremo se ce la farà o meno per il derby. La questione però è un'altra, la questione è se continuare anche l'anno prossimo e nei prossimi mesi con Ibra Imovic che quindi va verso i 41 anni oppure fare un investimento importante in attacco perché ovviamente Ibra è un giocatore eccezionale, fantastico, ha ancora una media goal molto alta ancora se fin ad ora in Serie A ha segnato otto reti e al Milan è il giocatore che ha segnato di più è ovvio che però con il passare degli anni anche lui si sta rendendo conto di non poterle giocare tutte questi continui problemi fisici gli fanno perdere continuità non è più il giocatore scattante e atleticamente eccezionale come una decina di anni fa ecco perché queste riflessioni il Milan deve farle, deve farle in primavera quando chiamerà Ibra a casa Milan si siederanno Maldini, Massara, Gazzidis e Ibra a tavolino e parleranno del futuro cosa fare con Ibra? La mia personale idea è di tenere Zlatan Ibrahimović ma non come attaccante principale del Milan Ibra deve capire, entrare nella mentalità che può rimanere al Milan come assoluto protagonista uomo spogliatoio, uomo d'esperienza, giocatore che può caricare l'ambiente ma non giocarle tutte deve cercare di capire che a 41 anni il Milan deve andare avanti e magari puntare su un giocatore giovane ma già forte, già formato e lui può entrare a gare in corso, può decidere le partite nell'ultima mezz'ora può alternarsi anche con questo attaccante perché ci saranno poi tanti impegni le coppe europee, la coppa Italia, cos'altro, il campionato naturalmente quindi è un Milan che deve assolutamente ragionare anche sul futuro di Zlatan Ibrahimović ripeto, ribadisco, è un giocatore ancora importante per lo spogliatoio e per il Milan ma il Milan non può dipendere solamente da Ibra anche perché Giroud, va detto, non viene servito benissimo per come gioca il Milan è un giocatore diverso, non è secondo me adatto al gioco di sponde è uno che va servito in area di rigore con palloni alti e deve magari sfruttare il gioco aereo lui sul gioco aereo è davvero molto bravo come il gol segnato in Coppa Italia contro il Genoa e quindi è da valutare anche poi la questione trequartisti perché molto spesso viene messo sotto la lente di ingrandimento il problema dell'attaccante della punta, quindi Ibra e Giroud in questo caso ma va visto anche come vengono in un certo qual modo serviti gli attaccanti e Brahim non sta attraversando un buon periodo già da due o tre mesi ed è il numero 10 titolare del Milan, secondo me il Milan in quella zona del campo dovrebbe intervenire il Milan dovrebbe andare a prendere un altro trequartista da poter alternare a Brahim Brahim Diaz può starci nel Milan però deve avere anche un'alternativa a Mr. Pioli e poi ad esempio anche sulla fascia destra bisogna capire se si vuole continuare con Messias e Salame Kers o fare un upgrade, un miglioramento andando a prendere un altro giocatore naturalmente immagino che non si possa fare tutto perché altrimenti ci vorrebbero davvero tanti soldi da investire lì in avanti, lì in attacco tra la punta, il numero 10, quindi il trequartista e l'esterno destro però risolvere già uno o due di queste tre problematiche secondo me sarebbe fondamentale per la prossima stagione sono tutti ragionamenti che questi verranno effettuati dalla dirigenza nel corso dei mesi in vista dell'estate perché a gennaio non succederà nulla, è bene specificarlo chiudiamo con la questione che sì, nelle scorse ore è emersa l'ipotesi di un contatto tra il Tottenham e Franchesi un contatto che può esserci stato, non lo neghiamo, però al Milan non sono arrivate delle vere e proprie offerte concrete anche perché la linea del Milan perché sì è quella di tenere il giocatore fino alla fine della stagione che sì in questo momento è impegnato in Coppa d'Africa, mercoledì giocherà con l'Egitto con la speranza, purtroppo per la costa d'Avorio, ma la speranza dal punto di vista del Milan è che possa tornare prima della Coppa d'Africa e quindi essere pronto anche lui per il derby contro l'Inter così come ha fatto Benasser, sarebbe importante per il Milan avere anche lui per il derby il Milan però non vuole venderlo, vuole tenere che sì fino a giugno sperare ancora di riaprire questa trattativa per il rinnovo che fino ad ora non ha portato a miglioramenti non ha portato ad avanzamenti in una fase che definiamo ormai da tempo fase di stallo una fase di immobilismo tra il Milan e Franchesi ci sono davvero piccolissime speranze perché finché c'è un contratto giustamente la dirigenza può anche provarci però se dall'altra parte che sì non vuole scendere sotto gli 8 milioni di euro è davvero complicato rinnovare il suo contratto a quelle cifre quindi si va verso la scadenza, si va verso l'addio a giugno, al 30 giugno la scadenza contrattuale di Franchesi non dovrebbe succedere nulla da qui a fine gennaio per quanto riguarda una sua eventuale partenza per accasarsi al Tottenham quindi tentativo o meno del Tottenham il Milan non vuole privarsi di Franchesi a gennaio un po' la strategia che aveva utilizzato negli anni precedenti, nei mesi precedenti con Donnarumma e Celanoglu cioè accettare il rischio della loro partenza senza poi intervenire sei mesi prima perché poi a gennaio sia Donnarumma che Celanoglu erano a scadenza ma il Milan lo sapeva e non ha fatto nulla per venderli prima quindi la situazione che sì è questa vedremo se ci saranno degli sviluppi più avanti ma sostanzialmente crediamo che la cosa rimarrà così ci vediamo domani per ulteriori commenti e aggiornamenti sul mercato del Milan l'ultima settimana di calciomercato e poi dritti proiettati verso il derby